Buongiorno, ci eravamo impegnati a iniziare le 15 per problemi organizzativi, cerchiamo di rispettare i tempi. Al di là delle presentazioni, oggi abbiamo come relatori l'Avvocato Alessandro De Federici che è responsabile dell'Osservatorio Carceri dell'Unione Camere Penali e il Dottor Roberto Mazza, magistrato di sorveglianza. Una piccola introduzione se mi è consentito, poi darò immediatamente la parola ai redatori. Il tema della fase esecutiva, la giurisdizionalizzazione della fase esecutiva, il giusto processo della fase esecutiva, è un tema che è sempre stato molto caro all'Unione Camere Penali. Perché dico questo? Dico questo perché questo convegno che noi abbiamo inserito come Camera Penale di Modena all'interno degli eventi formativi del programma organizzato insieme alla Fondazione, è un tema che abbiamo voluto portare esaminando non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista di quella che noi chiamiamo la politica giudiziaria. E consentitemelo di dire, l'Unione Camere Penali è dalla nascita, io non ho frequentato l'Unione fin dall'inizio, ma certamente il tema dei diritti dei detenuti è un tema che è stato molto caro, molto vicino e presente in molti convegni organizzati dall'Unione Camere Penale Penale. Perché dico questo? Non tanto per fare propaganda all'Associazione, perché molti di voi sono iscritti, molti di voi lo conoscono, c'è stato il congresso, il convegno di Sarazana, ci sarà un convegno organizzato a maggio a Sulmona sulle misure di sicurezza, che è una materia che pochi di noi conoscono. Questo perché è giusto sottolinearlo, in un momento di grosse difficoltà dell'avvocatura, dove l'avvocatura sta difendendo quelle che sono posizioni che per molti vengono ritenute posizioni di difesa corporativa, mentre noi sappiamo perfettamente che il tema delle tariffe, il tema delle società di capitali ed altro sono temi che sono rilevanti perché vanno a inficiare quello che è il diritto di difesa. La protesta dell'avvocatura generalizzata, la maggior parte di voi, ci conosciamo tutti, e la maggior parte di voi, fa esercito nel settore penale. L'avvocatura delle camere penali ha spesso da sola, a differenza dell'avvocatura che non si è occupata del diritto penale, fatto forme di protesta, addirittura dallo sciopero della fame dell'anno scorso, dove i vari presidenti delle camere penali si sono succeduti, è sempre stata molto vicino al diritto dei detenuti. E credo che questo nobility e questo sia il vero senso delle proteste dell'avvocatura che non possono essere fraintese con difese corporative. Ed è per questo che il tema del nostro incontro di oggi, che spero che possa dare adito anche a una discussione, anzi gli interventi sono crediti, entrambi i relatori me lo hanno confermato. È un tema che vogliamo portare avanti perché riteniamo che il giusto processo della fase esecutiva ancora non si sia pienamente realizzato. E soprattutto consentitemi anche un'autocritica della nostra categoria. La faccio a me stesso perché io stesso oggi sono presentatore ma in realtà poi avrei poco titolo per parlare perché ho conosciuto di più il dottor Mazza quando era addirittura pubblico ministero parecchi anni fa, ormai possiamo dire, pochi pochi anni fa. Poi è magistrato della giudicante, lo frequento certamente molto meno da quando è magistrato di sorveglianza, nonostante il mio studio sia pochissimi metri dall'ufficio del dottor Mazza. Credo che occorra una consapevolezza che questa materia debba essere praticata con alle spalle una grossa esperienza e professionalità. Noi abbiamo sempre parlato di specializzazioni e ci batteremo per la specializzazione e crediamo che quello sia l'obiettivo più facilmente raggiungibile in questo contesto politico che possa riqualificare la figura dell'avvocato. Ma all'interno dell'ambito penale vi sono tante materie diverse, il carcerario, il processo fiscale e quant'altro, ma c'è quella fase che è la fase esecutiva, la fase di sorveglianza che è una fase che ha una sua peculiarità e che presuppone una preparazione, è un'esperienza particolare che deve avere presente non soltanto chi si occupa di quella fase, ma anche di chi affronta il processo nel merito, perché nel momento in cui vengono fatte determinate scelte processuali è inevitabile andare a pensare come andrà a finire. Può capitare, si parlava prima, che scelte avventate, magari anche apparentemente favorevoli al detenuto, all'imputato, al detenuto nella fase cautelare, poi vanno a incidere negativamente su quella che è la fase esecutiva. I diritti dei detenuti sono diritti che debbono essere tutelati, perché la fase della detenzione certamente deve essere una fase transitoria. L'articolo 27 della Costituzione prevede che la pena debba essere finalizzata alla rieducazione, quindi la fase esecutiva è una fase che deve essere vissuta e partecipata con la visione di un futuro per quella persona che deve essere recuperata da parte della società. Io do immediatamente la parola al collega De Federici, per non intervenire successivamente, non dico una provocazione, però uno spunto di riflessione che do al dottor Massa e mi permetto di dare al dottor Massa perché, e lo dico senza enfasi o così dovere di ospitalità, l'ho conosciuto come pubblico ministero e molti di voi che sono più giovani non l'hanno conosciuto come pubblico ministero ma l'hanno conosciuto come giudicante, ma quando era pubblico ministero certamente aveva quella che si suol dire per sintesi una cultura della giuridizione e il rispetto dei diritti della difesa. Ho la sensazione, per quel poco che ho vissuto di esperienze in materia esecutiva e in materia di sorveglianza, che il giusto processo, il contraddittorio, lo spazio difensivo sia limitato o per ragioni di numeri o per altro. Chiedo al dottor Massa di portarci la sua esperienza perché sono certo che quella cultura della giuridizione che aveva e che gli ho riconosciuto e che gli riconosco non è certamente venuta a meno. Nella fase esecutiva ultimamente la giurisprudenza del tribunale di sorveglianza, quindi non sto indicando come responsabile di tutto quello che ho detto soltanto il magistrato di sorveglianza di Modena, è un dato di fatto, è un dato statistico, ha cambiato i numeri, ha cambiato i numeri in maniera anche molto preoccupante e sorprendente e a nostro avviso anche ingiustificata perché i dati che l'Unione delle Camere Penali da anni raccoglie su questo tema dimostrano che ad esempio i recidivi conseguenti a Lagossini sono un numero estremamente limitato, quando invece noi vediamo e verifichiamo che il tribunale di sorveglianza di Bologna, ma non è che lo dico per spirito polemico, lo dico con spirito costruttivo, sono dati che dimostrano una restrizione a volte assolutamente ingiustificata anche perché quella fase interviene per ragioni processuali, tempi del processo, in un momento in cui la persona è una persona certamente diversa da quella che ha commesso il reato. La situazione carceraria italiana è drammatica, tant'è vero che è stata sanzionata più volte dall'Unione Europea, proprio addirittura per gli spazi materiali in cui vivono i detenuti, è un tema serio, un tema che va affrontato con spirito propositivo nel rispetto dei diritti dei detenuti che sono diritti che dobbiamo tutti tenere presente nel momento in cui affrontiamo il processo fin dalla fase del merito. Forse ho parlato fin troppo, do la parola immediatamente al collega Alessandro De Federici che ringrazio per essere venuto a Modena anche perché ha incastrato questa nostra seduta con impegni che non poteva diversamente spostare e quindi è per questo che abbiamo anticipato le tre per cercare di concludere quantomeno il suo intervento e il suo apporto a questo nostro incontro verso le ore 17. Poi ovviamente siamo a disposizione per un confronto che spero che possa essere partecipato da tutti voi. Grazie. Grazie Alessandro, mi scuso anticipatamente come ha detto il collega che io alle 5.20 ho un treno incastrato appunto tra una serie di impegni ma questo non mi ha impedito di essere con piacere qui oggi e i ringraziamenti non sono ringraziamenti così dovuti per avermi invitato ma ringraziamenti alla Camera Penale di Modena perché questo tema che è un tema come ricordava Alessandro Cara all'Unione è un tema su cui l'Unione quando è chiamata intervenire interviene perché appunto costituisce l'ossatura proprio della storia dell'Associazione degli Avvocati Penalisti che è l'Unione delle Camere Penali nella difesa dei diritti della della gente più debole e così va inteso il soggetto detenuto che se fosse oggi privato solo della libertà personale e quindi sanzionato con quella che dovrebbe essere la pena sarebbe una cosa. In realtà oggi assistiamo a delle privazioni non solo della libertà personale ma di tutta un'altra serie di diritti che invece non dovrebbero costituire la sanzione ma costituiscono di riflesso la sanzione. Detto questo io parto come sempre si fa dal titolo diritti dei detenuti, ordinamento penitenziario e giurisdizionalizzazione del processo esecutivo. È un titolo ambizioso perché offre una doppia lettura. Una doppia lettura che è quella teorica di quello che dovrebbe essere e quella realistica di quello che è attualmente. E allora ovviamente noi facciamo gli Avvocati, siamo dei pragmatici e siamo abituati a partire dal dato concreto. È il dato concreto che è quello che succede oggi in Italia su questa materia e allora il sovraffollamento stridola i diritti dei detenuti in gran parte degli istituti penitenziari italiani. La legge sull'ordinamento penitenziario è stata falcidiata da interventi legislativi sempre più restrittivi in nome di una sicurezza che si insegue come una chimera ma spesso non si raggiunge. Quindi una operazione culturale in controtendenza rispetto a quello che era lo spirito della legge Cozzini. La giurisprudenza restrittiva della gran parte dei tribunali di sorveglianza italiani non ha contribuito a trovare degli spazi in questa politica e involuzione culturale. Nel procedimento di sorveglianza i numeri schiacciano la qualità e questo purtroppo è inevitabile perché quando si parla di sovraffollamento si parla di soggetti che fanno istanze per arrivare a dei benefici e istanze che vengono valutate dai tribunali che sono sempre più ingolfati dai numeri. E allora che succede nel procedimento di sorveglianza oggi? Nel procedimento di sorveglianza oggi sempre per guardare velocemente l'aspetto pratico per poi andare agli altri aspetti c'è una situazione in cui l'istruttoria si completa ormai nell'imminenza o addirittura il giorno dell'udienza. Ci sono relazioni che i difensori apprendono nel contraddittorio dalla relazione del giudice relatore. C'è uno spazio di difesa sempre più limitato e c'è una necessità di rincorrere i tempi e i numeri che mal si concilia con la qualità di un procedimento che dovrebbe nascere come un procedimento giurisdizionale a tutti gli effetti e così è sulla carta ma poi se paragoniamo questa carenza di informazione istruttoria della difesa con l'assoluta impossibilità da parte della Procura Generale di avere i fascicoli che è un'altra anomalia del procedimento di sorveglianza. Oggi la Procura Generale esprime dei pareri secondo la vecchia teoria lombrosiana, guarda in faccia il soggetto che è lì e decide se esprimere pareri favorevoli o pareri contrario perché non ha minimamente idea di che cosa si parli fino al momento in cui il relatore dà conto delle carte della relazione che per quanto completa essa sia è comunque una lettura soggettiva, inevitabilmente soggettiva, di atti processuali. E allora è un falso procedimento giurisdizionale così come oggi nella realtà. E questo è ancora più preoccupante nel momento in cui il procedimento della fase esecutiva in genere, il procedimento della sorveglianza in particolare, si è evoluto in termini tecnico-giuridici e si è passato dal procedimento in cui si valutava la relazione dell'assistente sociale se era bravo o no il soggetto per accedere a una misura alternativa a profili tecnici di ammissibilità che fanno riferimento a sentenze e interventi della Corte Costituzionale continui. E allora se mescoliamo il tutto, oggi vediamo che c'è un'assoluta carenza di giurisdizione, di giurisdizionalizzazione del procedimento di sorveglianza. E questa è ovviamente non tanto una visione pessimistica ma una visione realistica di chi esercita e di chi si confronta con questo tipo di procedimento nella quotidianità. Però è facile demolire una situazione, è più difficile proporre qualche cosa, proporre le soluzioni ma per proporre le soluzioni bisogna conoscere il problema, conoscere, avere un quadro chiaro della vicenda per non fare soluzioni utopiche. Perché oggi si potrebbe dire, si riforma tutto citando gli esperti nel contraddittorio delle parti e controesaminandoli sulla osservazione svolta del detenuto per l'ammissione... e saremo nella follia utopistica di un procedimento che non si avvererà mai. Allora, se si vogliono proporre delle soluzioni bisogna studiare il problema. Noi dell'osservatorio carcere ognuna di Camere Penali siamo molto attenti a questo problema, abbiamo appunto Comunione costituito un osservatorio specifico che monitora l'andamento di una certa legislazione in materia di carceraria più generale perché oggi parliamo di esecuzione pena e di ordinamento penitenziario ma noi siamo anche molto attenti a tutta la fase cautelare, della custodia cautelare che genera oggi una popolazione che è quasi pari a quella dei condannati definitivi. Allora per avere un quadro chiaro della situazione bisogna confrontarsi con quello che è la situazione culturale oggi in Italia. La situazione culturale oggi in Italia è contraddistinta in questa materia da un preoccupante regresso culturale. Un regresso culturale dell'opinione pubblica, un regresso culturale, non lo dico, la sequenza non è a caso, dell'opinione pubblica, della politica, della politica che è legata al consenso dell'opinione pubblica e se un'opinione pubblica allertata da un circuito mediatico vizioso in cui vanno nel giornale l'affidato che commette la rapina in banca e non negli altri centinaia di affidati che portano a buon compimento la loro misura alternativa e questa opinione pubblica influenza le scelte della politica. Influenza le scelte della politica attraverso una politica che non è più guidata da una progettualità, da una visione a 360 gradi del problema ma da una cultura emergenziale che partorisce provvedimenti emergenziali. Noi siamo in emergenza da 20 anni e forse anche più in Italia e abbiamo sempre avuto risposte emergenziali che generano carcere. E infine a scalare da un regresso culturale che dobbiamo riscontrare anche nella magistratura perché se un'opinione pubblica, i media e la politica hanno un certo approccio culturale il povero magistrato per non rimanere schiacciato da una opinione pubblica si trova a dover in qualche modo adeguarsi a un approccio culturale della gente e quindi a essere più restrittivo nella sua giurisprudenza. Vedete io recentemente, perché a me piace in queste più che lezioni io amo definirle chiacchierate tra colleghi e fare sempre dei riferimenti pratici. Allora io ultimamente sono intervenuto in una trasmissione radiofonica radio radicale in cui si affrontava un problema che è stato in cronaca in quest'ultimo periodo cioè un'ordinanza di un tribunale di sorveglianza italiano, in particolare il tribunale di sorveglianza dell'Aquila che aveva concesso la detenzione domiciliare a un soggetto condannato per mafia si parlava del ministro della salute di Provenzano e quindi soggetto strapericolosissimo eccetera e si è fatta una campagna mediatica su questo provvedimento che era un'ordinanza, badate bene, sull'articolo 147 del codice penale l'articolo 147 del codice penale che è il differimento facoltativo per motivi di salute è un articolo che nasce dal codice Rocco, quindi un articolo che rimane intatto così come era dal codice Rocco, il codice autoritario e fascista cioè stiamo parlando di una norma che rimane e che nasce e che viene immaginata in un periodo storico in cui la cultura ovviamente non era proprio una cultura rieducativa ma era una cultura retributiva e nonostante questo si immaginò di tutelare la salute bene costituzionalmente garantito dei detenuti attraverso questa norma e questo articolo un'ordinanza che appunto faceva riferimento e mi piace diciamo ricordarla nella parte perché è utile alla lezione nella parte finale dell'ordinanza in cui si diceva la potestà punitiva dello Stato trova infatti come suo limite invalicabile la tutela della salute fondamentale diritto dell'individuo, articolo 32 della Costituzione e il rispetto del principio dell'umanità della pena, articolo 27 della Costituzione quel tribunale si interrogò fine febbraio, primi di marzo sulla compatibilità al regime carcerario di un soggetto così pericoloso e operò quel bilanciamento tra le esigenze di prevenzione generale e il diritto alla salute quel tribunale dispose una perizia collegiale che è conclusa per l'incompatibilità con il regime carcerario e alla fine pervenne a un'applicazione di una detenzione domiciliare per un anno prevo l'esame alla scadenza dell'anno. Che cosa successe? Successe che la stampa locale di Palermo si ribellò alla stampa locale di Palermo si ribellarono gli esponenti della procura della DDA locale che all'epoca fecero i processi in un circuito mediatico che arrivò in televisione nella trasmissione di Giletti per poi arrivare addirittura alle Iene dove si scherzò e si derise quel tribunale di sorveglianza perché la patologia in questione si banalizzò come un favismo e quindi il soggetto che non mangia le fave è in carcere e deve essere messo in detenzione domiciliare pure quando è pericoloso. Questo è per darvi un'idea di quello che fu la gogna mediatica di quel provvedimento. Noi ci andammo a guardare questo provvedimento e scoprimmo per esempio che questo soggetto era stato in arresti domiciliari per tre anni durante la fase di cognizione per incompatibilità con il regime carcerario cioè il GIP, il pubblico ministero e il tribunale che l'avevano giudicato in regime di arresti domiciliari erano poi saltati sugli scudi quando il tribunale di sorveglianza gli aveva dato anni dopo la detenzione domiciliare. La Cassazione a seguito dei ricorsi aveva confermato la incompatibilità con il regime carcerario e quindi la correttezza dell'operato dei giudici di cognizione e scoprimmo che la motivazione faceva riferimento e dava conto di tutta una serie di patologie assolutamente che evidenziavano un pericolo di vita del soggetto per un'intolleranza grave alle medicine e quindi l'impossibilità di patologie associate che portavano a incompatibilità. Questo esempio perché? Perché chi come voi probabilmente non ha poi sviscerato la notizia mediatica del mafioso messo agli arresti domiciliari in detenzione domiciliare per favismo ha ironizzato come hanno fatto alcune trasmissioni televisive poi non ha la corretta informazione perché la corretta informazione è il sale della possibilità oggi di giudicare e criticare o essere adesivi a un provvedimento di un giudice. E allora noi abbiamo sempre ritenuto che la magistratura di sorveglianza fosse considerata un po' da tutti una magistratura di serie B erroneamente ovviamente perché poi noi abbiamo sempre difeso dai provvedimenti del 41 bis quando annullarono il carcere duro per i mafiosi e come se mediaticamente fossero dei provvedimenti che rimettevano in libertà persone pericolose non che incidessero solo sul regime di dentivo. Abbiamo criticato tutte le volte che il soggetto che era stato messo in semilibertà in affidamento avesse commesso un reato e balzato appunto nelle cronache giornalistiche e mediatiche. Però non abbiamo mai riscontrato in questo una difesa della magistratura associata o raramente abbiamo riscontrato in questa. Quindi la premessa da cui partiva Alessandro era la premessa che la magistratura di sorveglianza è un ambiente poco praticato da noi avvocati e poco considerato, ma considerato poco a dispetto dell'importante ruolo che si svolge. E allora se l'approccio culturale è questo, se la impostazione culturale è questa, se la fotografia della società attuale oggi è questa non ci possiamo meravigliare che sono uscite fuori nell'ultimo decennio, leggi come la ex Cirielli che è conosciuta per la prescrizione ma in realtà molto più invasiva per quello che è la recidiva e quindi l'impossibilità di avere benefici per tutti coloro che sono stati consigliati recidivi reiterati e la legge stupefacenti, l'inversione culturale della legge stupefacenti che ha riempito il carcere e i soggetti tossicodipendenti l'articolo 656 del codice di procedura penale che è una ghigliottina attraverso la quale bisogna passare e spesso ci si rimane sotto quando dopo anni e anni di libertà solo per avere magari un 624 bis e non 624 o avere un 73 aggravato all'80, un 74 secondo comma, legge stupefacenti si rinizia un percorso meditenziario senza il meccanismo di sospensione un articolo contenitore che si è riempito negli anni sempre più perché si parte da un discorso di emergenza, finisce l'emergenza ma si segue da riempire di contenuti, di articoli quelle disposizioni normative che precludono l'accesso ai benefici penitenziari questo è il risultato di una impostazione culturale in definitiva c'è una generata sensazione, percezione di insicurezza della collettività perché ovviamente tutti noi siamo allarmati quando succedono fatti di cronaca nera che viene placata però con interventi sempre più carcerogeni questo termine brutto ma efficace in cui si prevede per ogni cosa che succede vi ricorderete l'emergenza degli incidenti stradali l'emergenza degli omicidi colposi noi siamo un paese che dall'omicidio colposo è diventato omicidio doloso con la figura del dolo eventuale e si prevedono sanzioni pazzesche di carcere per soggetti che hanno purtroppo avuto un incidente in cui ne sono rimasti coinvolti gli affetti e le persone fisiche che sono state appunto oggetto dell'incidente sapete per esempio nello studio comparato in Inghilterra sugli incidenti stradali e sui reati stradali si prevede che il soggetto sconti una pena andando sull'autombulanza a raccogliere i feriti per strada per un tot periodo di tempo cioè ma immaginate voi quale effetto rieducativo possa avere stare in carcere un soggetto che non è ad uso ad un ambiente carcerario nel carcere oggi italiano che è un carcere dove la rieducazione si può effettuare poco e quindi buttato in cella per anni, per mesi, per anni rispetto a quello che è fatto perché anche il ragazzo avventato sotto l'effetto dell'alcol ha ucciso un'altra persona con un incidente stradale quindi in un profilo ovviamente colposo si trova a dover raccogliere per strada gente sanguinante e gente vittima di incidenti stradali ma con tutti gli affetti familiari che in quel momento vengono fuori la madre che arriva sul posto la disperazione della famiglia tutto quello è più o meno rieducativo dell'ozio in cella e allora perché noi in Italia non riusciamo a immaginare delle sanzioni alternative non delle misure alternative, delle sanzioni alternative delle possibilità di espiare la pena in modo diverso più rieducativo le statistiche ci aiuterebbero in questo perché al di là della percezione dell'insicurezza sociale le statistiche ci dicono per quanto le statistiche possono essere lette in un modo o nell'altro ma poi le statistiche quando dicono sempre la stessa cosa forse bisognerebbe eseguirle le statistiche ci dicono il contrario e ci dicono per esempio che i soggetti che finiscono la pena in misura alternativa rispetto a quelli che finiscono la pena da detenuti hanno una recidiva di tre volte inferiore quindi l'effetto rieducativo della pena ha un effetto concreto per che cosa? per la sicurezza della collettività perché sono soggetti che non tornano a delinquere i soggetti che commettono reato nel corso di misure alternative sono 0,9% i soggetti che sono venuti meno alle prescrizioni della 199 che è una legge residuale quella sulla detenzione domiciliare sotto all'anno adesso ha un anno e mezzo sono poche unità rispetto alle 5.600 persone che in un anno e tre mesi sono state messe in detenzione domiciliare e allora tutto questo ha un significato di possibilità di immaginare oltre che sanzioni alternative anche delle misure alternative ma per dare una data a questa inversione di tendenza culturale c'è un momento storico in cui l'Italia si è dovuta confrontare con una reale emergenza che era il periodo dell'emergenza stragista quella del Falcone e Borsellino stiamo parlando degli anni 91-92 in quel momento considerate che la legge Cozzini come voi tutti sapete dell'anno 1986 la legge Cozzini è il punto più alto il punto più vicino ai principi costituzionali della rieducazione della pena dopo 5 anni c'è questa emergenza effettiva di gli omicidi di Falcone e Borsellino e delle loro scorte e lo Stato in qualche modo si ribella a questo immaginando una restrizione tra le altre cose una restrizione dei benefici penitenziari diceva la Corte Costituzionale all'epoca nel 93, la sentenza 306 del 93 in alcuni momenti storici, diceva la Corte la compressione e la finalità educativa della pena è giustificata da esigenze di prevenzione generale e di sicurezza della collettività e questo giustifica la soppressione di alcune garanzie la soppressione di alcuni accessi ai benefici penitenziari il ritorno al tipo di autore di reato perché la legge sull'ordinamento penitenziario parte nel 75 come un tipo d'autore del reato che va colpito come una presunzione di pericolosità maggiore passa attraverso l'86 a un profilo di individualizzazione del trattamento e quindi del soggetto che va giudicato non per il reato che ha fatto ma per la sua persona che era appunto la fase più vicina all'attuale Costituzione e ritorna nel 91 con questa norma la legge Scotti Martelli ritorna poi con l'interpretazione della Corte Costituzionale al tipo d'autore di reato e con la famigerata introduzione dell'articolo 4 bis che oggi è l'articolo con cui noi avvocati spesso ci confrontiamo nei tribunali di sorveglianza per l'ammissibilità ai benefici penitenziari però questo trend che sono passati 20 anni dal 91-92 ad oggi era frutto di un momento storico perché la Corte Costituzionale premetteva in alcuni momenti storici lo Stato deve prendere delle decisioni autoritarie oggi questo momento storico almeno per quello che riguarda quel picco di emergenza sarebbe passato ma la norma non è affatto stata cancellata la norma anzi è stata riempita di nuovi articoli preclusivi per l'accesso ai benefici penitenziari quindi c'è un'emergenza nasce una norma emergenziale finisce l'emergenza la norma emergenziale rimane e così moltiplicato per le decine di emergenze che sono negli anni venute fuori ci sono degli spiragli in questo uno spiraglio è dato da una sentenza recente della Corte Costituzionale che è la numero 189 del 2010 che è la sentenza in cui si giudica in termini di costituzionalità dell'articolo 58 quadre come preclusione all'accesso ai benefici penitenziari nel caso di evasione che è una giurisprudenza contrastata nei tribunali di sorveglianza italiani e questa sentenza che è un'interpretativa di rigetto questa formula delle interpretative di rigetto però sono sentenze che poi nella parte emotiva aiutano a orientare e vi infliggo questa breve lettura a fronte di un'interpretazione letterale della disposizione impugnata che prevede appunto l'impossibilità per accedere per tre anni ai benefici penitenziari in caso di soggetto genera i dubbi di legittima costituzionalità prospettati dal giudice a cuo è possibile invece una sua lettura costituzionalmente orientata basata sull'ineliminabile funzione rieducativa della pena sancita dall'articolo 27 terzo comma della Costituzione e confermata dalla giurisprudenza di questa Corte che ha escluso l'ammissibilità nel nostro ordinamento penitenziario della prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati nella materia dei benefici penitenziari è criterio costituzionalmente vincolante quello che esclude rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata caso per caso se si esclude radicalmente il ricorso a criteri individualizzanti l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo e si instaura di conseguenza un automatismo sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena la Costituzione la Corte Costituzionale ogni tanto ha questi colpi di coda il problema poi è vedere se poi di fatto questa giurisprudenza è seguita è un'interpretativa di rigetto non vincola nessuno c'è una giurisprudenza di merito che si deve formare su queste sentenze della Corte Costituzionale però di fatto abbiamo esempi ancora oggi di preclusione all'accesso ai benefici penitenziari in caso di evasione in alcuni tribunali di sorveglianza italiani allora il discorso che facevo all'inizio è un problema culturale all'epoca nel 91-92 quando entrò in vigore l'articolo 4 bis della legge Scotti Martelli ci fu una sollevazione di tutti i tribunali di sorveglianza italiani si fecero decine e decine di ordinanze di remissione alla Corte Costituzionale sui profili di incostituzionale dell'articolo 4 bis la Corte Costituzionale dal 93 al 99 intervenne tante di quelle volte su 4 bis che oggi quell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario è l'articolo che ha subito i maggiori interventi della Corte Costituzionale nella storia dell'ordinamento italiano è un articolo che è stato dichiarato più volte incostituzionale ma questo frutto anche della diciamo della spinta culturale e di ribellione culturale che la magistratura operava oggi questo non c'è più ma non c'è più io non voglio fare un attacco frontale alla magistratura di sorveglianza e poi mi dispiace che ne faccia le spese oggi il rappresentante che tra l'altro ho conosciuto di essere persona come diceva Alessandro prima che ha la cultura della giurisdizione e quindi diciamo non è un attacco ma è un attacco semmai è una difesa perché ci sono dei magistrati che sono messi spalle al muro come quel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila che quando eccedono in concessione hanno poi gli attacchi mediatici e allora se oggi c'è una continua erosione del potere discrezionale del magistrato di sorveglianza come c'è stata dal 91 in poi non c'è più la ribellione ma c'è forse la diciamo la comodità vorrei dire di essere vincolati da provvedimenti per i quali non si può fare a meno che dichiarare inammissibile o rigettare perché oggi nessuno è più disposto a fare battaglie contro i mulini a vento quasi nessuno noi ci riteniamo ancora tra quelli che lo vogliono e lo possono fare ovviamente l'avvocatura e l'avvocatura associata è più libera nelle sue iniziative di una magistratura associata e non però spesso in questi convegni noi ci confrontiamo e poi in questi convegni vengono sempre quelli più illuminati dei magistrati quelli che la pensano diversamente o non vengono scoperte o se vengono qui vengono a dire cose diverse da quelle che poi applicano e allora è uno sforzo comune che dobbiamo fare di educazione anche rispetto all'opinione pubblica anche rispetto ai media cioè noi dobbiamo lavorare qui vengo a quello che è il nostro ruolo di avvocati perché le colpe sono anche nostre degli avvocati che cosa dobbiamo fare noi avvocati per spezzare questo circuito di regressione culturale dobbiamo fare un'azione politica come quella che noi delle Camere Penali facciamo ogni giorno ma dobbiamo fare anche un'azione quotidiana nell'esercizio della nostra professione allora l'azione politica è quella che ci contraddiscinque per i documenti per gli interventi in sete sia in materia di custodia catolare di ordinamento penitenziario proposte di modifica normativa previsioni di sanzioni alternative e quant'altro ma proprio perché all'inizio vi ho detto dobbiamo conoscere il problema e non andare a fare proposte utopistiche queste proposte sono state fatte abbiamo pensato di farle per il famoso brocardo che l'Unione fa la forza di farle insieme a un cartello delle associazioni allora che ci siamo inventati abbiamo detto chi la pensa come noi ma le associazioni impegnate sul carcere anticone su tutte ma insomma anche altre parte delle correnti della magistratura perché la magistratura associata sul carcere è sensibile soprattutto la magistratura democratica che ha ritenuto con noi di sottoscrivere alcune proposte e abbiamo fatto un documento sovraffollamento due punti che fare con dieci proposte concrete una decina adesso dieci undici non mi ricordo però sono decine di proposte concrete che abbiamo sottoposto alla politica e le abbiamo firmate non più Unione Camere Penali ma le abbiamo firmate decine di sigle di associazioni che hanno diritto di parola sulla materia compresa la magistratura e questo documento sovraffollamento che fare è stato presentato in una conferenza stampa fatta a Roma l'anno scorso in cui sono venuti a parlare il presidente dell'ANM e il presidente dell'Unione Camere Penali oltre a tutti i presidenti delle varie associazioni proprio per dare un segno concreto ai media sulla necessità di una svolta culturale sul carcere sulle misure alternative e sulla custodia cautelare perché di questo parla quel documento e allora è vero un'azione politica dell'Unione ma un'azione politica sul territorio noi contiamo molto sull'attività delle singole Camere Penali e questo oggi è un esempio di come l'attività sia centrata sul tema abbiamo fatto anche un filmato forse lo riuscirete a vedere che abbiamo stiamo distribuendo a tutte le Camere Penali dieci minuti di filmato sul carcere senza commenti vocali è solo un filmato di immagini sul carcere con delle didascalie che danno la situazione attuale cioè il numero di detenuti il numero di misure alternative eccetera così intercalate a queste immagini questo filmato è stato fatto sia per queste scuole di formazione che noi facciamo in tutta Italia ma anche e soprattutto per quel ruolo di informazione corretta e di educazione che vorremmo fare per esempio nelle scuole ci sono molte Camere Penali territoriali che stanno facendo dei programmi di formazione in collaborazione col Ministero della Pubblica e istruzione e vanno nelle scuole proiettano il filmato e rispondono alle domande degli studenti che sono interessantissime io l'ho fatta a Roma è un momento di confronto interessante ma su questioni semplici come spiegare per esempio che il carcere è privazione della libertà e non privazione dei diritti della salute o piuttosto che dei diritti dell'individuo vedere quelle immagini e vedere che in una cella dormono 12 persone con la quarta branda che sta attaccato col naso al soffitto e dove nel bagno ci sono la frutta e dove nella... c'è... giustamente diceva un detenuto di questa associazione che si occupa mirabilmente del tema che è Ristretti Orizzonti e che veramente invito tutti a frequentare il suo sito che è fatta da redazione anche da ex detenuti in cui diceva il carcere entra a scuola le scuole entrano in carcere io se ho tempo due minuti vi leggerei questa cosa che è veramente illuminante il progetto è arrivato al suo ottavo anno questa è un'associazione che lavora nel carcere di Padova la casa di reclusione di Padova è famosissima perché è una casa come bollate trattamentalista addirittura dove fanno non so se avete saputo i panettoni più buoni d'Italia che li compra pure il Papa questo è andata sui giornali per questo però diciamo fondamentalmente è una casa di reclusione dove si fanno molte attività di rinserimento questo detenuto dice è iniziata la prima settimana nella riterazione di Stetti Orizzonti è iniziato questo incontro tra le scuole e il carcere con due incontri di formazione per gli insegnanti e sta proseguendo con incontri quotidiani sugli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo livello su Padova è il Veneto volontari detenuti ed ex detenuti della redazione sono impegnati in un confronto continuo e spontaneo in cui si mettono in gioco gli studenti che prendono coraggio per porre anche le domande più scomode e le persone detenute che hanno altrettanto coraggio rispondono assumendosi le proprie responsabilità e mettendo la propria storia e i propri errori a disposizione degli studenti tra le domande che gli studenti pongono più spesso ce n'è una che sembra la più semplice ma com'è la giornata in carcere? in realtà risponde il soggetto che è un ex detenuto rispondere a questa domanda non è così facile perché non è facile rendere la noia la monotonia di giornate che si rincorrono uguali a se stesse per anni e anche perché si corre il rischio di apparire lamentosi e ci si limita ad elencare tutto quello che in carcere manca tutto quello che non funziona quello che non è facile a suscitare negli studenti la capacità di immedesimarsi in quelle giornate far capire che non basta la televisione a fare del carcere un hotel a 5 stelle e che ciò che le persone detenute chiedono non è altro che un carcere anche stretto e senza tv ma che li metta nelle condizioni di fare un percorso davvero rieducativo in cui confrontarsi con persone con esperienze completamente diverse come gli studenti che incontrano ora queste sono chicche ovviamente non si può generalizzare tutto questo nell'ambito di tutti gli istituti penitenziari però io penso che iniziative come queste di cui si dovrebbe far carico anche le singole camere penali siano fondamentali per la riuscita di quel ruolo di educazione e di controtendenza culturale a cui ho fatto più volte riferimento però accanto a questo c'è un ruolo che ci riguarda più direttamente perché se no dite è venuto a fare la lezione e ci è venuto a fare uno spot di propaganda delle iniziative che facciamo un ruolo dell'avvocatura che è quello che ognuno di noi svolge nei tribunali e allora qui soprattutto in questa materia così specialistica è un ruolo che va svolto con la consapevolezza del ruolo che si svolge e con la conoscenza e con la capacità di confrontarsi su materie specialistiche con interlocutori specializzati se non si parte da questo noi non abbiamo possibilità di svolgere seriamente il nostro compito io sempre per rimanere ancorato a degli esempi pratici nella mia professione mi sono imbattuto in due tre casi emblematici di come possa un avvocato che fa l'avvocato anche nella fase di cognizione essere determinante nella fase di esecuzione e allora vi ricordo che una volta in appello in sede di esecuzione lessi una sentenza di primo grado e di appello in cui i giudici fecero un errore nel determinare la pena base rispetto a un reato di 74 secondo comma quindi partecipazione ad un'associazione penalizzata tra fuggi e stupacenti rispetto a un'ingente quantità 80 secondo comma e posero per errore la pena base perché al soggetto era stato inizialmente contestato il ruolo di promotore organizzatore poi derubricato in sentenza posero come pena base il 74 secondo comma in 10 anni era la pena 9 anni 74 secondo comma un anno di articolo 80 secondo comma il difensore della fase di cognizione si adoperò per raggiungere come doveva fare la soluzione del suo assistito ma non si preoccupò non vide con occhio critico quella pena così come era composta e quindi non impugnò sul punto la sentenza andò definitiva quando ci trovammo in sede di esecuzione pena e chiedemmo l'accesso ai benefici penitenziari noi ci trovammo 9 anni di pena preclusiva ai benefici penitenziari e un anno di possibilità di accesso ai benefici penitenziari questo significò che il soggetto per un semplice errore che doveva essere 9 anni di articolo 80 e un anno di 74 secondo comma essendo più grave l'articolo 80 secondo comma rispetto al 74 si trovò all'impossibilità di ottenere benefici penitenziari per 9 anni e uscì l'ultimo anno quindi vedete come alle volte è determinante l'occhio e la capacità di valutare fin dalla fase di cognizione quali sono i risvolti di ammissibilità dei benefici penitenziari e ancora ulteriore processo sempre poi questi processi dove serve l'occhio critico è più nei processi di criminalità organizzata ancora questo 74 una serie di problemi 67 capi di imputazione si arrivò all'appello all'epoca c'era la possibilità di patteggiare la pena in appello oggi non è più prevista il 599 e si organizzò un patteggiamento in appello erano 67 capi di imputazione lì il giudice disse il pubblico il pubblico dice poco importa a me l'importante è che la pena finale sia X poi veda lei avvocato e l'avvocato diciamo così attento al risultato avrebbe detto la pena X mi sta bene calcolo una pena generica pena base più continuazione per gli altri 66 capi di imputazione e arrivo a una pena finale noi invece facemmo un'opera diciamo importante perché calcolammo per ogni singolo capo di imputazione la pena in continuazione ovviamente in maniera pro imputato cercando di mettere come pena base necessariamente la pena più grave ma l'aumento per i reati ostativi minore dell'aumento per i reati non ostativi quando arrivamo con questo calcolo fatto in un giorno intero perché ci mettiamo otto ore a fare questo calcolo la corte d'appello si pensò bene in un processo con cento imputati di andare a rifare i calcoli e disse la pena finale mi sta bene a vallo questo soggetto di fatto non rientrò in carcere perché calcolammo il preso offerto per la pena associativa quello che rimaneva parte era coperto dall'indulto e parte erano i tre anni che erano gli ultimi reati 73 semplici che poteva rimanere libero e quindi operò il meccanismo del 656 ma questa operazione fu fatta in funzione di una quel soggetto non rientrò in carcere grazie agli avvocati che avevano guardato la fase esecutiva nella fase di cognizione e ancora sempre un altro un altro modo di capire quanta le volte noi dobbiamo sdoppiarci come personalità io ritengo che in alcuni casi l'avvocato è veramente a uno sdoppiamento di personalità perché nel caso di processi associativi che discuti in sede di appello in sede di primo grado ovviamente si discute sull'attendibilità spesso dei collaboratori di giustizia delle intercettazioni telefoniche sulla bontà delle indagini svolte se siano meno svolte correttamente anzi più delle volte si attacca l'indagine si attacca la veridicità dei collaboratori tutto questo per arrivare alla soluzione del tuo assistito quando vai in esecuzione pena e stiamo parlando di radio stativi ai benefici meditenziari l'unico modo per uscire da questo è la famosa sentenza 68 del 95 della Corte Costituzionale che prevede l'inesigibilità alla condotta collaborativa cioè il soggetto che vuole andare in beneficio penitenziario deve dimostrare ed essere nell'impossibilità di collaborare perché i fatti e le circostanze sono state tutte chiarite nella sentenza e nel processo di condizione in quel caso l'avvocato davanti al Tribunale di Sorveglianza il Dottor Mazza ne darà atto deve fare un'operazione assolutamente inversa deve dire che l'indagine è fatta talmente bene i collaboratori sono talmente precisi e dettagliati che il povero Cristo che deve accedere ai benefici penitenziari non ha nulla più da aggiungere a quell'indagine così fatta bene che era due mesi prima fatta malissimo perché doveva portare alla soluzione dell'avvocato quindi del condannato quindi immaginate qual è lo sforzo di un avvocato oggi che non ha nel patrimonio conoscitivo e formativo di formazione professionale queste armi e queste qualità allora l'invito è a esercitare tutti quanti la professione come affermazione del rispetto del diritto dei propri assistiti e dei principi che sottendono a questo diritto per esempio per finire con un'altra attività concreta che svolgiamo nei procedimenti di revoca delle misure di alternative nei procedimenti di revoca delle misure di alternative quando dicevo prima provocatoriamente il 111 si dovrebbe appegare al procedimento di sorveglianza e quindi portare l'equip nel contraddittorio delle parti e chiedergli qual è l'osservazione ovviamente era utopistica ma non è utopistico pretendere di chiedere al tribunale nei procedimenti di revoca le cui conseguenze sono assolutamente invasive perché c'è il blocco dei benefici per 3 o 5 anni a seconda della della violazione e procedimenti che si devono concludere dentro 30 giorni quindi che hanno il termine perentorio e quindi si corre per chiudere questo procedimento e lì noi dobbiamo far valere il diritto ai nostri assistiti perché non sono i 30 giorni rispetto ai 3 anni o ai 5 anni se c'è un dubbio se l'indagine va fatta più approfonditamente il tribunale deve citare nel contraddittorio delle parti l'elemento che ha provocato la sospensione e che potrebbe provocare la revoca della misura alternativa sempre nell'esperienza quotidiana un giorno mi imbattei in una informativa che oltre a dire che il soggetto non portava con sé il semilibero non portava con sé in tasca il programma di trattamento che è una violazione trattamentale lo deve sempre portare con sé disse inoltre si aggirava con fare sospetto nei pressi di un obiettivo sensibile e io dissi sentiamo qual era il fare sospetto e qual era l'obiettivo sensibile perché se non come si fa come si fa il maresciallo dice non c'aveva il programma di trattamento non c'aveva l'obiettivo sensibile il fare sospetto allora questo non me la racconta Chiara revochiamo un affidamento revochiamo una semilibertà e per tre anni siamo bene così insomma devo dire in questo si vede dove noi esercitiamo pretendere verbalizzare di chiedere l'esame il contresame di un soggetto che è portatore di una fonte confidenziale quante volte il comandante del carcere o la nota della polizia medienziale il semilibero è sospetto abbiamo fonte confidenziale che ci dice che porta la droga in carcere questo pure è capitato sentiamolo qual è la fonte confidenziale perché se la fonte confidenziale non può essere utilizzata nella fase di cognizione a meno che non si dica quale sia l'origine della fonte confidenziale non deve essere neanche utilizzata nella fase di esecuzione e allora le leggi sulle indagini difensive fare indagini difensive nel procedimento di sorveglianza soprattutto nei procedimenti di revoca dove la conoscenza del motivo della revoca è pregressa mentre probabilmente nelle altri procedimenti l'istruttoria si completa all'ultimo e quindi uno dovrebbe avere una sorta di preveggenza nel fare indagini difensive nei procedimenti di revoca sa già qual è la relazione che genera la revoca la sospensione e quindi potenzialmente la revoca del procedimento insomma io ritengo e qui concludo che ognuno di noi nell'esercizio quotidiano della nostra professione nella fase esecutiva perché questo oggi ci occupa il tema che ci occupa oggi debba svolgere questo stando attenti appunto avendo ben in mente che i diritti delle persone che si tutelano sono diritti sensibili e tanto più quando nella fase esecutiva si parla di diritti che riguardano la libertà personale grazie do la parola immediatamente al dottor Mazza vorrei che non fosse frainteso la critica che Alessandro e Alessandro hanno portato alla magistratura di sorveglianza era soltanto per portare la nostra esperienza e soprattutto per provocare poi un un intervento che che credo che il dottor Mazza possa possa esporre anche proprio confrontando quella che è stata la sua esperienza di giudicante pubblico ministero in quella che viene ritenuta una giurisdizione diversa da molti nel momento in cui è passato nel momento in cui è passato in questo in questo tribunale un po' negletto e regletto che è quello della della sorveglianza al mio così ritenuto da mossa innanzitutto ringrazio ovviamente gli organizzatori per l'invito ma perché credo che questo incontro si collochi nella scia di altri già fatti in ambiente diverso e con degli obiettivi probabilmente diversi però con una funzione uguale cioè quello di portare all'esterno di quello che può essere il piccolo ufficio o il tribunale di sorveglianza o comunque l'ambiente tipicamente giudiziario problematiche che credo tutti viviamo anche se da posizioni veramente diverse ma che la stessa società vive perché io colgo uno spunto di un intervento non ricordo se l'avvocato Sivelli o del relatore sul fatto che comunque si tratta e qui ovviamente escludo la detenzione dell'ergastolo comunque di persone che torneranno nella società cioè se ciascuno di noi come cittadino si ponesse il problema del trattamento come una fase che dovrebbe servire per far sì che una persona che per ciò che ha fatto è temporaneamente detenuta o comunque in qualche modo in vincoli secondo le varie tipologie delle misure comunque tornerà libero ed allora è interesse di tutti della società di ciascuno di noi che il trattamento sia efficace questo forse non passa ancora perché si vede sempre diciamo il trattamento come un qualcosa comunque confinato nell'ambito dell'esecuzione cioè del tempo in cui quella persona è sottoposta a esecuzione penale e mai come efficacia e da questo ma qui andremo oltre parlavamo prima di quella che poi il trattamento come termine più generale della pericolosità ma ripeto di questo ne parleremo eventualmente un'altra volta ricordo soltanto che e qui parlo l'unica volta della casa di lavoro ma per molti l'esistenza delle case di lavoro è la certificazione del fallimento delle reeducazioni nell'ambito penitenziario e qui mi fermo e raccolgo adesso qualche spunto non dico provocazione qualche spunto sulla più che altro sull'andamento della della normazione della giurisdizione partendo ovviamente poi farò qualche spunto vi darò qualche spunto cercherò di darlo più specifico però sulla sul dove stiamo andando rispetto all'esecuzione della pena alle misure alternative e quant'altro io devo dire e qui credo che le mie parole non possono essere equivocate come in qualche modo difesa d'ufficio dell'amministratura di sorveglianza per semplice fatto come ha detto l'avvocato Sivelli io sono come amministratura di sorveglianza un neonato sono entrato in questo settore da un anno e mezzo quindi molto di più ormai oltre 20 anni in altri settori sempre dell'amministratura quasi sempre penale però devo dire che invece proprio nel frequentare gli ambienti della magistratura di sorveglianza non soltanto locale non locale perché la magistratura di sorveglianza a Modena tra ricordate sono io essendo un ufficio unipersonale ma locale in ambito distrettuale ma anche così frequentando o via come si chiama su questi forum o anche attraverso contatti diretti avuti in incontri professionali eccetera la magistratura di sorveglianza è veramente probabilmente la più appassionata e la più sensibile alla materia che di cui si occupa e questo probabilmente ve lo dà anche un dato come dire forse banale ma la permanenza nell'ufficio nella mia poca esperienza la permanenza dell'ufficio di sorveglianza è uno dei più alti rispetto ad altri uffici e questo non soltanto perché probabilmente gli altri uffici hanno molte più diramazioni ma perché mi accorgo veramente che c'è una passione maggiore di altri settori ovviamente parlo in maniera generalizzata non posso parlare di questo o di quell'altro esponente ma questo non mi non mi sorprende perché se è vero che la la realizzazione la concretizzazione con tutte le problematiche che poi ci avremo tempo vedremo del principio educativo della pena che non dimentichiamoci è stato sostanzialmente negletto per decenni cioè il principio educativo come voi sapete tutti meglio di me è nell'articolo 27 della Costituzione ma le prime vere realizzazioni e concretizzazioni sono quelle della legge 354 75 completata dalla legge Gozzini e quant'altro ma qui probabilmente l'avvocato che nel settore quanto ho capito da più tempo di me come esponente e quanto meno che si occupa nell'ambito dell'associazione di questo anche su ispirazione di magistrati di sorveglianza cioè ricordiamoci che la 354 anche l'86 hanno visto a volte anche la partecipazione attiva di stesura di grandi magistrati di sorveglianza come Margara scusate non è piageria come il presidente attualmente maista ma è uno dei padri di quelle riforme e quindi non mi sorprende il fatto che anche quelli che sono venuti dopo cerchino di non disperdere la creatura che in qualche modo è cresciuta in questi anni e tant'è vero che lo senso giurisprudenziali perché e qui torno un attimo al tema specifico procedimento di sorveglianza giurisdizionalizzato forse il procedimento di sorveglianza è quello in cui per la scazzità di norme o comunque la disorganicità di norme è quello in cui maggiormente è possibile un intervento giurisprudenziale e questo se avrò tempo cercherò di darvi due o tre elementi soprattutto a contrasto di quella che certamente su questo non posso dissentire e ne voglio dissentire sulla crinale che è stato preso dopo il 91 93 e quant'altro fino a finire il 2009 insomma con tutte le leggi o pacchetti di sicurezza o comunque che mi dà organizzata che si voglia non dimentichiamoci che proprio spesso a partire dall'amministratura di sorveglianza e poi in Cassazione ma anche con l'intervento spesso decisivo della costituzionale spesso anche nelle forme che ha ricordato l'avvocato di interpretativi di rigetto ma abbastanza chiare nell'individuare nell'indicare dei principi ermeneuci fissi salvando la norma sì però dando al magistrato a volte in maniera anche abbastanza brutale devo dire nel leggere le sentenze le ordinanze la direttiva di dare prima una lettura costituzionalmente orientata di quello che è la norma che non è così scontata però perché spesso e questo bisogna dirlo le ordinanze di rimessione sono state proprio dalla difficoltà di costruirla da sé rispetto a delle letture che sembravano invece abbastanza preclusive è poi è chiaro che queste decisioni sono state riprese dalla Cassazione quant'altro sono diventate sostanzialmente diritto vivente però io credo che molta parte di ciò che ha consentito la non deriva o comunque la non eccessiva deriva di ciò che resta dell'avviamento penitenziario nasca anche dagli interventi giurisprudenziali per quanto riguarda poi il il problema e qui finisco soltanto con poi cerco di tornare un po' al tema che mi è stato assegnato delle io diffido delle molto delle statistiche io diffido molto delle statistiche diffido perché è chiaro che nel nei grandi numeri sono elementi che ci danno degli indirizzi non voglio assolutamente sminuire una così scienza utilizzata però devo dire anche che le statistiche specialmente in un settore come quella sorveglianza in cui l'elemento principe è che il trattamento è individualizzato la misura è individualizzata mi lasciano un po' perplesso nel senso che ogni epoca storica ha la sua la sua utenza tra virgolette non tanto un come dire rispondere esigenze collettive anzi io è proprio nell'ultima ordinanza che lei ha citato si vede come la mia sorveglianza spesso come dire viene criticata proprio perché non segue le esigenze collettive o comunque quelle che parte politica tutto parte di essa vuole mostrare come esigenze collettive mi riferisco all'ordinanza sulla quale peraltro devo dire c'è stata una nello stesso senso detto dall'avvocato una presa di posizione della magistratura associata molto forte anche con riferimento nel quale si faceva comunque riferimento anche rispetto a critica proveniva anche dall'interno della magistratura della necessità di vagliare bene quelle che sono i provvedimenti di leggerli e di come dire affrontare anche pur potendoli criticare non è questo il problema ma il travaglio come dire del del decidente che poi è un travaglio che viene comunque esternato nella motivazione in maniera basta leggerla e si verrà al di là ripeto della condivisione o meno del finale della decisione ma certamente non tale da portare a quelle reazioni detto questo torno un attimo al procedimento di sorveglianza con il voceramento giurisdizionalizzato perché sono intervenuti degli elementi interessanti da parte proprio su quello che è la possibilità di contraddittorio la possibilità anche di intervento difensivo che sono elementi ripeto proprio per quella caratteristica che ho detto prima di sinteticità in qualche modo delle norme che disciplinano il procedimento di sorveglianza hanno dato poi modo di riflessione per esempio parlo della possibilità di inserire procedimenti di sorveglianza le indagini difensive come farlo non è previsto per esempio il deposito vi rendete conto che la magistratura di sorveglianza il procedimento di sorveglianza è nato e parlo ovviamente di quello codicistico senza tediarvi qui faccio soltanto una piccola cronologia perché il procedimento di sorveglianza nasce inizialmente soltanto soltanto non è un diminutivo per elemento di come dire tutela del diritto del singolo detenuto cioè il procedimento di sorveglianza e la stessa magistratura di sorveglianza nasce come magistratura di garanzia per il detenuto e con la 354 che con la 386 come possibilità di inserire di concedere di ammettere a sanzioni alternative appena alternative che in qualche modo viene ampliato questo quello che ormai è veramente quasi a dismisura l'intervento delle magistratura di sorveglianza e rispetto a questo rimangono comunque del viene il procedimento di sorveglianza strutturato come un settore come una parte semplicemente esecutivo questo è quello che trovate nella normativa codicistica sono ovviamente due soli articoli gli altri si riferiscono a singoli problemi e singole materie e quindi è proprio in questo ambito in questa strutturazione poi completata dal quello che rimane però del delle norme processuali che c'erano comunque legge 154 alcune delle quali importantissime perché ricordiamoci che tutta la parte che è relativa alla revoca alla sospensione delle mesote relative è soltanto disciplinata nella parte del 51 TR e quant'altro e quindi dico nasce come in questa in questa visione del procedimento giudizionalizzato come espressione procedimentale di quello che è il principio di reeducativo della pena cosa voglio dire è proprio il momento in cui ci si rende conto che la reeducazione della pena è da individuarsi come un vero e proprio diritto soggettivo e quindi rientrante nell'ambito della tutela costituzionali l'articolo 24 e poi anche nel questo trattamento come da ricomprendere anche nell'ambito della garanzia di legge per tutto ciò che riguarda la libertà personale quindi parlo dell'articolo 13 che in qualche modo si comprende che tutto il procedimento che riguarda questa materia non può essere lasciato come era un tempo si pensi al 176 alla amministrazione penitenziaria sebbene poi nel 74 sia stata tolta questa possibilità dalla corte costituzionale cioè le due cose vanno insieme perché è la tutela è l'importanza stessa il carattere stesso del diritto che si va a a decidere a valutare che necessita di un processo giurisdizionalizzato questo però e qui concordo non ha portato probabilmente per quella pensiero forse dell'atto finale di tutto il processo penale come di minore importanza nonostante evidente che sia l'esito di tutto ciò che è venuto prima è una banalità ma è così cioè come ricordava prima anche l'avvocato molte scelte fatte nel giudizio di merito hanno un effetto un effetto dirompente nella possibilità della gestione della modulazione dell'esecuzione della pena nonostante questo già il fatto che di tutto il codice si occupi del procedimento di sorveglianza due norme fa capire probabilmente che tutta questa importanza non è stata ben compresa ed allora per venire un attimo a quelle che è il carattere giurisdizionalizzato del processo di sorveglianza è evidente che non sto qui a tediarvi con i millerivoli del procedimento di sorveglianza in relazione alle singole materie di cui si occupa perché anche in questo varia non tanto il carattere del contraddittorio ma l'ampiezza del contraddittorio il momento in cui il contraddittorio interviene faccio un esempio banalissimo per le misure alternative c'è un contraddittorio pieno fin dall'inizio per molte altre per molte altre materie quale può essere per esempio una volta la liberazione anticipata e attualmente la legge cos'è tal Alfano si tratta di un contraddittorio successivo però alla fine l'importante è che sulla valutazione c'è comunque un contraddittorio pieno della parte perché voglio dire nel primo caso attraverso addirittura non soltanto un contraddittorio ma anche una possibilità di incenza probatoria della parte si realizza meglio nell'altra attraverso eventuali impugnazioni però l'importante è che alla fine la decisione finale sia presa dopo che vi è stato l'intervento in tutte le parti interessate quello che mi ritorno un attimo alla avevo preparato anche qualcosa sulle garanzie del contraddittorio però sinceramente non so se interessa a questo punto cercherò più che altro di seguire la linea perché ci sono molti aspetti del procedimento di sorveglianza nel quale tornano degli elementi che nel procedimento di cognizione erano stati accantonati o comunque attenuati si pensi per esempio già al fatto che il procedimento di sorveglianza è probabilmente l'unico rimasto nel quale c'è una possibilità di ufficio per tantissimi procedimenti e quindi il giudice stesso sapete questa è rimasta come parti che possono instare l'articolo 57 dell'ordinamento penitenziario è rimasta nonostante la normativa codicistica per cui sapete che il magistrato di sorveglianza per molte materie può operare d'ufficio cosa che ormai come sapete da tempo nel procedimento di cognizione non è più possibile e si tratta di materie non di scarso conto si pensi per esempio proprio al 51 ter il 51 ter che è la legge penitenziaria riguarda la possibilità di sospensione cautelare della misura della misura alternativa nell'emore che decida il tribunale di sorveglianza è una decisione che viene assunta dal giudice dal magistrato di sorveglianza d'ufficio cioè non c'è nessuna richiesta né del pubblico ministero né di quant'altro è lo stesso magistrato di sorveglianza che acquisisce ovviamente la segnalazione che proviene dai vari uffici che si occupano della vigilanza che possono essere l'ufficio di esecuzione penale esterna che possono essere i carabinieri le forze comunque di polizia in generale e procede procede potendo addirittura sospendere oppure rimandando direttamente al 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 tribunale di sorveglianza senza sospendere previsione finale a volte succede nelle ipotesi in cui insomma c'è una minore urgenza di incidenza e questo voi capite che se lo poniamo da un punto di vista del giusto processo nell'ambito procedimentale e nell'ambito dei principi costituzionali suona un po' come dire anacronistico quantomeno tant'è vero che dal punto di vista sistematico si è detto che quell'intervento per esempio non è un una fase cautelare a sé stante ma non è nient'altro parlo di intervento di sospensione ma l'inizio del procedimento del tribunale per il tribunale di sorveglianza pensate che il tribunale nel procedimento di sorveglianza davanti al tribunale non solo non è escluso che il magistrato che ha deciso per esempio la sospensione non faccia parte del del collegio che deciderà ma addirittura è obbligatorio perché una delle norme del tribunale di sorveglianza è che uno dei due giugi togati che deve fare che uno dei due magistrati togati che fa parte del collegio deve essere il magistrato nella cui giurisdizione si trova il detenuto quindi tutto questo perché perché non è qui diciamo cerco di spiegarmi e di dirvi il perché comunque è importante che questo rimanga proprio per il discorso che facevamo prima cioè perché tutto il procedimento di sorveglianza a differenza dell'altro dei procedimenti di cognizione ha come finalità propria una e una una e una sola cioè quella di individuare per quel soggetto per quel condannato la la misura la sanzione più idonea una volta che si è valutata la personalità del soggetto cioè anche la corte quando in qualche modo come dire assevera questa persistenza di questi elementi che certamente negli altri procedimenti non sarebbero più tollerabili lo pone appunto per la finalità stessa del procedimento cioè il procedimento di sorveglianza è un procedimento che nulla a che vedere con quello di cognizione è vero perché quello di cognizione si occupa del fatto dell'accertamento del fatto e solo ai fini della determinazione della pena della persona dell'imputato il procedimento di sorveglianza in tutti i suoi aspetti eliminiamo quelli proprio di convenzione di pena o di remissione e quant'altro parliamo dei procedimenti collegati poi a quella che è l'esecuzione penale reale e proprio ha come unica finalità quella dell'individuazione di quale misura sia migliore per il trattamento soggetto quindi ha come unica oggetto quello della persona e allora perché è necessario che ci sia quel magistrato perché è quello che meglio conosce il soggetto è quello che lo segue in tutta la gestione del giudizionale ovviamente e dell'esecuzione della pena detto questo però è chiaro che e qui concordo con l'avvocato alla fine nella realtà il procedimento di sorveglianza è un procedimento quasi esclusivamente cartaceo documentale però non vedo non vedo se non probabilmente delle difficoltà pratiche nella possibilità di inserire degli esiti di una indagine difensiva o anche di sentire delle persone ovviamente nei casi in cui effettivamente serve una cosa che vi faccio notare invece è questo sì secondo me è un vulnus particolare proprio per le ragioni che vi ho detto prima è sulla non necessità della presenza dell'interessato nel procedimento di sorveglianza e allora se diciamo che uno degli elementi del procedimento di sorveglianza è quello di valutare la persona e qui non si tratta di valutare la persona nell'aspetto o come sensazione non siamo in questo ma in qualcosa che tu confronti con quello che sono con quelle che sono i sultanzi di tutta l'istitura documentale che hai voi capite che la possibilità per l'interessato il diritto per l'interessato di essere presente solo nel caso in cui sia detenuto nello stesso circondario nello stesso distretto del tribunale di sorveglianza altrimenti può soltanto chiedere di essere sentito dall'ambanziato di sorveglianza il luogo in cui è detenuto questo sì è un grave bonus al quale forse si dovrebbe porre rimedio proprio per il discorso che ho fatto prima se noi dobbiamo valutare la persona in sé quantomeno per i procedimenti che più attengono alla valutazione del soggetto ma come valutazione del grado di riducazione che ho raggiunto di quella che è la sua adesione al trattamento anche ponendogli delle domande è importante forse più che sentire delle dei soggetti che già hanno riferito documentalmente e questo lo dico perché non vuole assolutamente discutere la esperienza che l'avvocato ha in alzettori ma le posso assicurare che sebbene con molta fatica nei 30 giorni che è veramente un tempo che sembra favorevole forse all'interessato ma forse bisogna cominciare a pensare se lo è davvero si cerca il tribunale di sorveglianza di avere tutti i chiarimenti possibili cioè io lo dico questo ma se io ricevessi una una informativa nel quale mi si propone o comunque me lo si invia per la mia valutazione una revoca di una misura perché qualcuno ha detto che è quello che ha portato la droga in carcere beh insomma le posso dire che su questo nascerebbe un'istruttoria non da poco per capire poi qual è l'effettiva entità delle cose quindi ripeto non discuto sul fatto che alcune volte sia necessario credo che però invece la presenza del soggetto che attualmente non è prevista se non in quelle limitazioni sia importante e su questo forse bisognerebbe riflettere quantomeno nei procedimenti in cui ci si occupa di ammissione o meno alla misura alternativa o di modifica o quant'altro questo per quanto riguarda poi ripeto se ci sono altre prego siamo fra amici quindi posso esprimere liberamente non si sente? ho la sensazione che spesso io ho apprezzato quello che lei ha detto cioè nella fase esecutiva di sorveglianza l'esame è sulla persona ma chi lo fa questo esame? la sensazione è che come avviene in quei processi dove c'è la perizia ad esempio nelle colpe mediche ad esempio o in vicende tecniche molto complesse il giudice affidi il suo giudizio poi alla fine alla conclusione del perito in quei processi di cognizione nella fase di sorveglianza la sensazione che si ha è che il magistrato per ragione di tempo affida il giudizio sulla persona al giudizio degli educatori cioè a un giudizio che proviene da una persona certamente esperta o qualificata però che esce dalla giurisdizione e spesso è capitato che queste persone possono essere forse non idonee o per ragioni particolari a esprimere questo giudizio le chiedo è vera o no questa sensazione che per ragioni di tempo cioè la difficoltà del magistrato di poter interloquire direttamente poter conoscere anche l'ambiente familiare si affida a quello che è il giudizio che proviene da tra virgolette esperti che forse a volte non sono tali e mi chiedo chi li qualifica a costoro allora secondo me bisogna distinguere in due diverse fonti informative per quanto riguarda le fonti informativi che provengono dagli operatori penitenziari non è così ma non è così neanche sostanzialmente perché come ho detto prima tutto la gestione tra virgolette scusatemi l'espressione del detenuto è una gestione comunque tra virgolette condivisa cioè tutto il trattamento anche se non è il magistrato di sorveglianza ovviamente che è deputato a effettuare il programma di trattamento o anche a predisporlo comunque la prossimità rispetto non solo al detenuto ma la prossimità rispetto anche agli operatori fa sì che quantomeno gli elementi più importanti siano tutti in qualche modo portati a conoscenza del magistrato e addirittura per molti aspetti approvati cioè il magistrato di sorveglianza proprio perché nasce inizialmente come magistrato che tutela i diritti del detenuto ha anzitutto un primo compito che spesso forse molti in ambiente non penitenziario dimenticano che è quello di approvare il piano di trattamento già inizialmente cioè c'è una norma dell'ordinamento penitenziare che prevede non oltre quello del 30 prevede proprio che ad ogni detenuto e internato nel momento in cui entra oltre alle normali attività di valutazione psicologica e quant'altro che ovviamente non attengono al magistrato di violenza l'equip il gruppo di osservazione di trattamento debba una volta individuate le risorse e quant'altro proporre al magistrato un piano trattamentale che non è il piano trattamentale specifico per il lavoro esterno ma è proprio un piano trattamentale ovviamente iniziale e modulabile che però tiene conto anzitutto di quelle che sono le risorse del soggetto personali e non allora questo fa sì questo rispondo alla domanda dell'avvocato che nel momento in cui viene a invalutazione un soggetto ed ecco perché è necessario che nel collegio faccia parte il magistrato che gestisce tra virgolette quel dal punto di vista giurisdizionale un particolare ambito restrittivo perché è quello che conosce effettivamente quelle che sono le tappe educative del soggetto quindi quello che è l'aspetto valutativo non è un aspetto del gruppo osservazione trattamento e quant'altro non è un qualche cosa che cade sul tavolo del magistrato che nulla conosce della storia penitenziare di quel soggetto ma è qualcosa che il magistrato può valutare nella sua e parlo qui di elementi di fatto che le relazioni comportamentali di sintese e quant'altro fanno perché c'è stato un grosso dibattito sulla possibilità anche di elementi anche se capisco che in pratica è difficile tra gli elementi descrittivi e valutativi appunto per evitare che una importanza sovradimensionata agli elementi valutativi faccia sì che si torni a quello che la legge 354 aveva eliminato cioè ad una riconsegnare ad organismi amministrativi quello che è la valutazione proprio del magistrato di sorveglianza che è stato appunto il discrimine maggiore operato con l'ordinamento penitenziario cioè della rieducazione del trattamento e della valutazione più che altro del percorso educativo si occupa il magistrato ripeto questo è quello che portò fin dalla modifica dell'attribuzione della liberazione condizionale al ministero di grazia e giustizia nel 74 cioè i due momenti diversi l'attuazione di quello che è il trattamento ovviamente con l'intervento del magistrato di sorveglianza dove sia previsto da legge come per esempio per l'approvazione del lavoro esterno e quant'altro o addirittura delle sperimentazioni esterne come l'articolo come i permessi o i permessi premi e quant'altro ma al di là di questi interventi specifici che ovviamente però si inseriscono in quel programma trattamentale è vero che uno degli elementi tipici dei permessi è che si inseriscono che siano ricollegabili ad un programma trattamentale perché altrimenti rimangono delle non sperimentazioni ma delle valvole per detenuto per carità benvengano ma certamente non coordinate con tutto quello che dovrebbe essere il percorso trattamentale del soggetto altra cosa invece e qui certamente non c'è dubbio se poniamo il discorso sugli elementi esterni al penitenziario perché è evidente che io non posso andare a conoscere gli elementi tipici che mi vengono descritti della situazione socio-familiare del soggetto che spesso abita a centinaia di chilometri di distanza è evidente che in quel caso ripeto si fa un discorso di buon senso nel senso si leggerà come sempre vengono le relazioni che sono quasi sempre l'ufficio dell'esecuzione penale esterna o anche delle forze dell'ordine e cercando di trarre come si fa in ogni buon processo di cognizione voglio dire di leggere ciò che viene sottoposto in forma cattaccia e cercando di ricondurlo però nell'ambito anche di coordinarlo più che altro con quello che sono le osservazioni dell'osservazione di tramurati un attimo ma se questo materiale cartaceo questa valutazione cartacea arriva il giorno dell'udienza quale spazio residua per il difensore di smentire magari un'informativa della polizia che dice che il datore di lavoro è pluripregiudicato cioè voglio dire poi questo io sono perfettamente d'accordo perché così dovrebbe essere quanto meno ma poi nella prassi quotidiana almeno a Roma succede questo che arriva l'istruttoria si completa il giorno dell'udienza siccome l'interesse in gioco del detenuto di avere una misura alternativa non concilia bene con un rinvio che poi non è a breve ma è a mesi allora io come mi difendo dalla spesso devo dire quasi appositamente l'informativa all'ultimo va a rovinare un quadro che era diciamo buono per il detenuto allora il problema è dell'effettivo contraddittorio non del potenziale contraddittorio questo è un po' il problema questo voglio dire è un problema che abbiamo almeno come localmente abbiamo posto anche perché questa stessa intempestività o tardività di elementi di valutazione si danneggia anche perché le pensi specialmente su valutazioni di questo genere quindi non tanto di fatti ma di comprendere la personalità di un soggetto nel quale tutti gli elementi si intersecano tu casomai hai visto un procedimento alcuni giorni prima e hai determinati elementi che ti portano perché è evidente che poi quando si dà al relatore voglio dire non dico è chiaro che siamo pronti alla cosa però in qualche idea te la sei fatta quando ti arriva casomai un'informativa d'altro genere che in qualche modo ti sposta gli elementi e questo è un problema e capisco anche che l'abbiamo posto e speriamo che poi è un problema anche da noi si è sposto anche come qui se potete entriamo ma non potete dire sul problema dell'ostensività del fascicolo dell'ostensività del fascicolo rispetto a quanto è previsto nel procedimento di cognizione perché per quanto ho detto prima molti essendo molto sintetica la regolamentazione del procedimento di sorveglianza nell'individuare cosa prendiamo e cosa non prendiamo il procedimento di cognizione non è sempre una valutazione univoca e così anche per esempio io ho detto prima secondo me non ci sono problemi per l'inserimento della delle soltanze dell'indagine difensiva però anche lì poi dal punto di vista concreto cosa prendi e anche per questo questo è un problema di ostensività del procedimento perché è chiaro che se c'è una norma che prevede che ogni parte interessata in primo luogo il difensore ha il diritto di presentare memorie e documenti entro cinque giorni dalla Camera di Consiglio è evidente che se la memoria o quant'altro per controbilanciare deve essere coordinato con la possibilità della parte interessata di conoscenza quindi salta un po' tutto e capisco però allo Stato sinceramente non vedo altra soluzione che quella eventualmente di un rinvio anche se devo dire però da questo punto di vista che addirittura nel chi critica la l'ostensività del diritto all'ostensività del discovery dei dati lo fa e secondo me un dato detrarre ce l'ha sul fatto che effettivamente nel procedimento di sorveglianza come il procedimento esecutivo diciamo l'elemento probatorio si forma nell'udienza è vero che questa stessa è chiaro che parlo di per tutto il ma ci siamo un tempo il magistrato relatore dovrebbe leggere integralmente e non per sintesi gli elementi in modo tale che ciascuno delle parti perché ricordiamo c'è soltanto il scusate io guardo sempre là è chiaro che lui torni da quella parte che non c'è soltanto il difensore o l'interessato ma c'è anche il procuratore generale e anzi devo dire che spesso il procuratore generale che pone problemi come dire di non conoscenza di un dato che proviene dal difensore questo a volte si cerca di inserire dice ma è proprio lì c'è il magistrato di relatore che deve leggere tutto quanto perché tutti i dati probatori conoscitivi si formano lì e anche questa è una lettura però è chiaro che ripeto si va a tutta interpretazione nel caso in cui ripeto basando sul fatto che è prevista la possibilità di memoria entro 5 giorni l'unico rimedio attuale non vedo che è quello di una richiesta di rinvio secondo il principio costruzionale più volte detto la costruzione che non è vietato l'inserimento eventualmente di atti arrivati dopo il periodo dopo il termine previsto ma è obbligatorio per la parte che ne faccia richiesta avere il tempo necessario per per imbattire è chiaro che poi anche qui il tempo necessario qual è? secondo cosa arriva? se arriva soltanto una cosa legge si può anche fare la giornata se c'è qualcosa da controprovare è diverso qui mi fermo perché bisognerebbe inserirsi nella possibilità del diritto a controprovo nel processo esecutivo però mi fermo mi fermo qua perché non voglio veramente tediarvi a quest'ora del sogno volevo soltanto finire e mi ricollego con 3-4 così elementi di riflessione che vi do però su base giurisprudenziale perché ho pensato che potesse essere come dire utile però che si ricollega a quello che ho detto inizialmente cioè come a fronte di una legge che sicuramente sicuramente va nella direzione opposta a quella che è la legge 354 e la legge Gozzini che avevano un principio molto chiaro il reato la tipologia di reato viene valutata nel processo di cognizione insieme alla personalità nel momento della esecuzione e della individuazione della pena di quant'altro ciò che è importante soprattutto questa è la Gozzini la personalità del soggetto quindi la tipologia di reato non è un elemento dal quale trarre in questa fase una pericolosità maggiore o minore non c'è il doppio binario tanto per dire una frase che spesso si usa nel nostro ambito questa era l'incidenza ecco perché mancavano le fasce ecco perché mancavano le inammissibilità e quant'altro e poi come ricordava prima l'avvocato quel giorno 91 che cominciano ad intervenire questa deroga a questo che era un principio abbastanza consolidato nelle precedenti leggi e cioè anche la tipologia di reato e quindi se vogliamo dire anche l'autore entra nella valutazione e questo però forse è stato l'errore non nella valutazione particolare del magistrato e del tribunale sorveglianza ma in una valutazione precostituita per legge e secondo me qui è stato probabilmente un errore nella preclusione che poi vedremo in qualche modo attenuata prima dalla costituzionale poi dalle normative che non hanno fatto nient'altro che riprendere in qualche modo quelle che erano le legittimità dichiarate dalla costituzionale di comprimere quella che è la materia prima del magistrato di sorveglianza e cioè di un magistrato che deve valutare qualcosa in itinere e non fermo cioè non una situazione qual'era al momento in cui è stata fatta la condanna per quel tipo di reato o quant'altro ma un magistrato che ha come oggetto principale del suo lavoro anzitutto una valutazione di quello che la persona come si è voluta nel tempo anche a volte dalla condanna perché spesso non sempre anzi quasi mai vogliamo dire c'è un tempo minimo tra l'uno e l'altro salvo detenuti e quant'altro per particolari atti e poi soprattutto sulla base di questo fare un giudizio diagnostico e prognostico e questo alla fine è l'oggetto del procedimento di sorveglianza ecco allora dove è errato però su questo devo dire e non sto qui ovviamente a dirvi le restate perché le cose molto meglio di me del 4 bis dell'epoca tre fasce ora tre commi e quant'altro dell'intervento della giurisprudenza per cercare di rimodularli secondo quel principio che più volte è stato ricordato e anche la sentenza che citava del 2010 ma anche prima dalla Corte Costituzionale comunque della impossibilità che esigenze di pericolità sociale che chiaramente stanno dentro a queste riforme pongono nel nullo o comunque mettono in maniera residuale quella che è la finalità rieducativa della pena e allora sulla base di questo un po' ovviamente entrando nello specifico delle evade situazioni che poi peraltro quelle più rilevanti sono il 4 bis e il 58 quadro e questi sono i due dell'ordinamento impidenziario i due grossi macigni che la massima di sorveglianza trova nella valutazione macigni oppure come l'avvocato diceva commons discessus nella valutazione del caso specifico il 4 bis ve l'ha già ricordato l'avvocato leggendola era una chiara preclusione assoluta si parla nella prima fascia dei reati quasi tutti associativi qualificati potremmo dire di altri reati di particolare rilevanza per il quale era prevista soltanto l'ammissione al beneficio penitenziario nel caso di collaborazione e poi intervenuta prima la corte poi la modifica legislativa nel riportarlo oltre che le case di collaborazione ad alcuni riconoscimenti di attenuanti e soprattutto al caso dell'impossibilità di collaborazione di inutile collaborazione che era quello di cui riferiva l'avvocato e poi altre che prevedono invece soltanto delle necessità istruttorie particolari con le richieste di pareri sul collegamento di comunità organizzata secondo la diversità ma quello che l'altro scoglio che ho detto io è il 58 quadro sul quale più si è esercitata probabilmente anche la giurisprudenza anche di merito perché il 58 quadro prevede come sapete il comma 1 e comma 7 bis che prevedevano delle percussioni anche qui interpretativamente poi siamo arrivati a delle aperture ma la lettura non era così semplice se non ancorata a quel principio costituzionale che ho detto prima cioè non può nessuna percussione assoluta eliminare quella che è la frenetaria educativa sempre che come dice anche la costituzione la corte costituzionale la preclusione non sia derivante dall'indiquot e comunque acid e questo lo vedremo perché salviamo poi uno dei casi del 58 quadro e vi dico soltanto vi ripeto ve le cito qua perché l'ho preso oggi un po' di volata perché pensavo che si potrà parlasse anche ovviamente questo come è stato per esempio per il 58 quadro con con riferimento al reato di evasione sapete che il 58 quadro ha due grosse strutture la prima che riguarda i reati di evasione e quindi impossibilità non ammissibilità della misura alternativa per risultato per per chi abbia sia stato condannato per un reato di evasione quando non si è trascorsi tre anni dal passaggio giudicato della sentenza di evasione o nel caso in cui vi sono state delle revoche di misura alternativa se non si è trascorsi tre anni dal provvedimento di revoca della misura questa era la prima parte la seconda parte era integrata con la recidiva per cui non è possibile per chi si era il recidivo reiterato specifico quindi 99,4 ottenere una seconda volta una misura alternativa qui si aprivano diverse interpretazioni perché i problemi erano bene anzitutto l'evasione è preclusiva in toto o no e allora qui c'è stato l'inserimento della giurisprudenza che qualche ha mitigato in qualche modo anzitutto per esempio sentenza del 2009 parla di Cassazione l'affidamento in prova non è automaticamente impedito dalla condanna per il diritto di evasione dovendo il giudice esaminare la personalità del condannato alla luce della condotta ovviamente comprensiva anche del fatto di evasione e dei progressi trattamentali e il grado di reeducazione raggiunto quindi noi a meno che lo facciamo andiamo a verificare innanzitutto che cosa è stato il reato di evasione cioè che voi sapete che il reato di evasione spesso è una giurisprudenza di metto voglio dire è una giurisprudenza molto restrittiva allora ai nostri fini non discutiamo che ci sia stato il reato di evasione ma come si inserisce questa condotta questa violazione in questo percorso trattamentale più alto anche questo non era scontato ancora per quanto riguarda l'evasione il divieto di ammissione al beneficio opera al passaggio ingiudicato della sentenza di evasione e questo perché c'era qualche filone che parlava invece di una condanna anche a primo grado invece si è ricordato che proprio la modifica della legge è l'unica cosa buona di 1851 ed è riportato non più a un fatto punibile a titolo di evasione ma di essere riconosciuto colpevole del fatto punibile a titolo di evasione ma ancora in via generale per entrambi sia per l'evasione sia per la preclusività per la recidiva la corte custodiale nel 2005 dice la disciplina restrittiva non si applica al condannato che al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dai cricilieri aveva raggiunto un grado vedete che sono tutte anche se calate nella singola specificità cercare di comunque di incunearsi in questa normativa così restrittiva per riportare in qualche modo una finalizzazione educativa perché altrimenti non se ne usciva e così ancora per la per la recidiva anche il 584 è un problema non indifferente cioè la preclusione è per la revoca di qualunque per la ripetibilità di qualunque misura alternativa qualunque fosse stata la misura revocata e voi capite che dire sì a questa a questa domanda significava praticamente che il recidivo difficilmente aveva mai potuto avere una misura alternativa e invece già si è ricondotta nell'alveo della stessa misura alternativa cioè la preclusione opera se si tratta di applicazione di una misura alternativa uguale a quella che era stata revocata e questo ripeto ha portato ha lasciato aperta una grande strada ma ancora la recidiva deve essere applicata con la sentenza di condanna in esecuzione dunque non rilevo una recidiva applicata per una condanna che non rientra nella procedura esecutiva in corso cioè ripeto sono tutti ampliamente che sono venuti con interpretazione giurisprudenziale ancora ma non vorrei per 4 bis una cosa importante è stata questo veramente sono grato a questo incontro perché non l'avevo ancora incontrato perché invece è importante per i condannati a reati tra virgolette di natura sessuale parliamo del 4 bis comma 1 quater per il quale è prevista come ammissione al beneficio una osservazione penitenziaria con l'esperta che si articola 80 per un anno ebbene la corte costruzionale ripesa dalla Cassazione ha equiparato un'osservazione in ambito extramurario a quello sembrano cose ma guardate che molti cadono come possibilità di eccedere sulla non esistenza della soglia di un anno di osservazioni penitenziarie e poi qui ultime due cose poi vi lascio perché non ho abusato della vostra pazienza ancora per ricordare gli interventi della missione di sorveglianza ricordiamo che è un'interpretazione giurisprudenziale quella della possibilità dello scorporo del cumulo che è quello che consente a tutte quelle specifiche calcoli per addivenire giustamente legittimamente all'ammissione ma se non ci fosse la possibilità di scioglimento del cumulo tutta quella accortezza dell'avvocato non avrebbe cioè si tratterebbe di persone che pur avendo espiato già ormai la quota di pena per un reato stativo continuerebbe a non essere a non poter accedere ai benefici anche lì quindi questo è qui chiudo ve l'ho detto non tanto per portare elementi ma sui quali forse sono comunque interessanti ma anche per dire che la maggiore sorveglianza e la maggiore in generale è attenta e continua a essere attenta a queste alla realizzazione in concreto del principio di educazione della pena anche a fronte e qui devo dire gli interventi che comunque sicuramente ne limitano la possibilità di intervento soprattutto di valutazione quindi minano ripeto ancora una volta quello che è l'elemento essenziale del lavoro del magistrato di sorveglianza ho finito ha confermato di aver mantenuto la cultura della giurisdizione col suo intervento no se qualcuno vuole intervenire con delle domande approfittando anche si lo so lo so hai dieci minuti mi dispiace per una veramente ma io ti ringrazio se c'è qualcuno che vuole approfittare della presenza quindi del dottor Massa per delle domande ben volentieri c'è il microfono a disposizione ciao nessuna domanda dobbiamo chiudere se c'è nessuna domanda noi concludiamo l'abbiamo organizzato noi quindi non abbiamo vincoli di orario per cui ringrazio ancora a voi della partecipazione e dottor Massa della disponibilità le ho uccise con ci poter pagato le ho uccise grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti